C'è chi alla General Store Botto Lizzardini si trova molto bene e ha deciso di restarci. Tutti si attendevano a Roberto Giacobazzi nel 2014 già professionista e invece no. Invece è ancora qui a lottare tra i dilettanti e a dare spettacolo con la maglia della General Store. Come mai e cosa farai in questo 2014? Diciamo che la squadra ha avuto fiducia in me e non è una cosa da poco. Io voglio dimostrare sia alla squadra che a tutto il mondo del ciclismo che valga qualcosa, portando risultati e sperando di fare vittorie per passare professionista nella stagione 2015. Le salite più impegnative ti attendono dunque? Sì, le salite più impegnative, le gare grossomodo più dure in Italia, cercherò di fare il meglio possibile sia per me che per la squadra.